Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi siamo in una minimap ma è una minimap particolare perché è una delle poche che ho trovato in italiano Nel senso ce ne sono tante in italiano ma è una delle poche carine in italiano E' stata creata, mi è uscito in chat, da Pellecraft04 L'ho trovata su un sito, cioè sia in inglese che in francese che in italiano E giustamente io ho scaricato la versione in italiano Allora qua possiamo aggiustare le impostazioni, c'è il ciclo di giorno a notte, sì o no Non so cosa c'è di base, possiamo anche impostare tipo giorno, sereno, posso? Mi sa di sì, non lo so che cosa sta succedendo, c'è un botto di particelle e di cose Questo è il creatore della mappa, che gira tra l'altro, ok Youtubers, ma non ci sono, almeno una cosa in italiano speravo di esserci, non ci sono, mannaggia Comunque, cos'è Minecraft dalla Z, che è il nome di questa mappa Praticamente è una mappa in cui ti fai vedere tutte le possibilità di gioco di una mini mappa per l'appunto Quindi devi sconfiggere queste missioni senza morire Questo, questo è il gioco, devi passare tutte, ci sarà questa qui con le anvil, quindi l'evitazione Ci sarà una con, sono morto, ci sarà una con le, con il parkour, ci sarà il pvp, ci sarà, cosa ci sarà, oddio buoio, oddio veloce Vai di là, ok, ben fatto, è la prima è andata, ci ho messo neanche 30 secondi, c'ho il timer, tra l'altro tutto questo Pulsante button, ok, trova quattro pulsanti di legno Ah, ok, ci sarà il find button, come potete vedere E quindi è Minecraft dalla Z, tutte le cose che si possono fare in una mini mappa di Minecraft E direi che come idea è davvero, davvero carina Ovviamente questa è una find button, quindi io ho un po' di esperienza nelle find button, se me lo concedete Quindi un bottone di legno, quattro bottone di legno dovrebbe essere relativamente facile trovarlo Ecco, l'ho detto, ora non li troverò mai più nella vita Allora, vediamo, welcome to the horrible house, oh c'è pure il campanello, che figata Mi hai detto che è l'italiano questa mappa, allora qua di sicuro c'è un bottone Eccolo Ok, è un bottone, l'ho cliccato Ne mancano tre, ok, qua ce n'è un altro Boom Boom, però ho già controllato e non ci sono dei posti in cui potrebbe andare un bottone Oh, oh, che cazzo Ma che cazzo Che cosa è successo? Non ha più mini materiali dove trovare il quarto Anche perché se c'è un altro blocco nascosto come sott'acqua, come cacchio faccio Ah, alleluia E, ehm, numero uno Cosa devo fare qua? Creeper Usare il creeper per saltare? Eh sì, allora ho capito Eh, boia però Numero due Creeper super caricati Che figata questa Numero tre Bella, bella sta idea Ma non l'avevo mai fatto neanche Vai, esplodi Non ci arrivo Porca vacca Questa è difficile Esplodi Esplodi No, e, e minchia Questa è complicata Forse ho bisogno di due di questi Vai, salta Non ci arriverò mai Esplodi, esplodi, esplodi Verso l'infinito E oltre No, impossibile Come ci arrivo là sopra? Cioè, deve essere proprio Qui vicino È difficile Questa, questa è difficile No, questa è davvero complicata Cosa mi spieghi, come faccio? Non ce la fa Non ci arriva Posso cliccarlo due volte? No Proviamo così Oh zio Ok, ok Ce l'ho fatta Numero 4 Questo è più Più vicino Questo è fattibile Boom Ok Numero C Numero Eeeh Qua mi fa spawnare Due almeno Tre Vai Quattro Quanti sono? Infiniti Vai Easy Ben fatto Dai, questo livello era fighissimo Colorante Dai Ok Cosa cuoci Cosa posso cuocere di questi? Il cactus Quali sono gli ingredienti? Ah, per fare quello? Per fare quello ho bisogno di Perché questo è l'album E anche il bianco Questo non tira niente Forse questo Quali sono gli ingredienti per il rosso? La rosa O anche questo in realtà Da crafty con quello Mi manca un pezzo Allora Forse qui era Questo? Che cosa? Perché è così strano l'ender pearl? È tutta allungata Che devo fare? Ora devo colpire le cose? Ok Sembra relativamente semplice questo Devo prendere le cose attraverso Ecco, sono morto Boom Ok Ok Ma non posso andare direttamente là sopra? Mi sa di no Piglia quello Boom Ok Ce la stiamo facendo Ma non vedo più Ah, cazzo Devo saltare per questo Sono morto E dai Incredibile Riesco comunque a morire Scusa Ma se io lo becco sto coso Perché mi fa morire? Posso andare direttamente lì? No Ci sono dei muri in mezzo Perfetto E' altissimo per questo Oh, oh Oddio Oddio Si è bugato Ce la fa? Ce la fa? Salta Nooo Oh, oh Oh, oh L'ho bugato Sto pezzo è merda Alleluia Mamma mia Cana la pesca Perché sono sopra un pollo? Non sono al pollo io, vero? Cosa devo fare? Scusa Devo portare il pollo Oddio Non uccidermi Porca vacca La tuba sa che non ti muovi di tuo Mi raccomando Poi io A portarti ti porto Eccoci Dai Pollo schifoso Mamma mia Sei anni Nell'acqua Vieni nell'acqua Vieni qua Bello Vieni qua Mamma mia Ho 16 anni Oddio E questo? Oddio 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 Muoio 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 Cambio un po' Porca vacca Muoio tutti Morite 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 Corro Corro Ok Devo correre per evitare le loro palle Che sono malissimo tra l'altro Finchè non li ho ammazzati tutti Devo scappare Ok Ne manca uno Boom Boom Alleluia Cavallo Beh Cavallo Sembra facile Nel senso Mi basta saltare No? Eh Ma dove cacchio vado? Non salta molto sto cavallo Non ho sbaglio Ok C'è un botto di vita però Ma devo andare di là? Ok ma non ce la farò mai E invece ce la fa Incredibile Eh però Scusa Qui come cacchio faccio? Scusa perché qua saltava di più Con sbaglio qua saltava molto di più C'è guarda qua Qua posso saltare? Oh la madonna Ok qua posso saltare Andiamo Di qua? No di qua non posso andare Di Ah Ok Ghiaccio Ice Morto Perfetto Devo Perché continuo a morire? Scusa se io ho una Barchetta Me la farei usare La barchetta Oh Ah bello Ok Sono morto Perfetto Fai moriamo Esghere Pericolo No raga Difficilissimo Devo driftare Ottivo No quasi Questa è complicata Questa è complicata forte Cioè qua se però troppo forte un tasto È finita Cioè questo è il livello Mi sembra di stare più usando tipo il jet della nasa che tipo devi fare i micromovimenti Eccoci qua Sì 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 Salto amplia Mio Oddio Ok salto di più Jump boost Modo cacchio vado Porca vacca Questa è la vero difficile raga Cioè dillo che sei stronzo Se mi metti Una roba di questo tipo Ma che ancora il parkour In tutto questo Alleluia Contraccolpo Knockback Porca vacca Devo essere l'ultimo che sopravvive Ammazza tutto Ammazza tutti Ammazza gli scherzi 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 Cadete Ok Guarda dove ammazzare Quello vero di questi Mi sa Contraccolpo Ma intanto Quello vero Eccolo L'ho beccato E dai Cadi un po Ok Ska Oh mio dio Le scale no Tutto ma non le scale Ok 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 Emo Vado di qua Odio totale Odio totale Ok Poco di magma Ok Qua devo saltare Ma devo stare attento Quando salto Ok Eccala Ok Ok Boom Ragazzi Questa prima parte Di questa mappa Che mostrano tutte le modalità di minecraft Finisce qui Ci vediamo oggi pomeriggio Alle 5 Con il secondo appuntamento Con la parte finale Della mappa Ci sono due ore in totale A registrare tutto E' venuto un file enorme Che ho compresso il più possibile Ciao Tutto 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 practise Sch E A E E A Grazie a tutti.